50 pagine colorate per raccontare ai bambini cosa sono state e cosa ancora rappresentano per il nostro paese la resistenza, la liberazione, la costituzione, ma anche il razzismo. E' I miei primi 25 aprile, un piccolo testo edito da TJ Idee che stamattina a Palazzo Ducale i rappresentanti delle istituzioni hanno donato ai dirigenti degli istituti comprensivi cittadini. Il progetto è stato realizzato da Ampi, CGL, FLC, CGL con il sostegno del comune di Sassari. L'opera è curata nei testi e nella grafica per adattarsi ai piccoli lettori a cui si rivolge hanno partecipato al progetto i partigiani Ibe Spioli e Renato Romagnoli con la consulenza storica di Claudio Silingardi. Un testo scritto tutto a caratteri maiuscoli con le parole chiave colorate inserito tra immagini stilizzate racconta alle giovanissime generazioni cosa sono la resistenza, la liberazione, le leggi razziali, la dittatura e i campi di concentramento. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti dell'Ampi, la presidente provinciale Caterina Mura e quello cittadino Thomas Arras di CGL, EFL, CGL, Luigi Canalis e degli istituti comprensivi sassaresi. L'iniziativa si inserisce nel programma di eventi organizzati e patrocinati dal comune di Sassari in occasione del giorno della memoria.